Il cattivo riposo può avere ripercussioni serie e negative sulla nostra salute, per questo l'Istituto Neuromed di Pozzilli, insieme al suo Centro per lo Studio e la Cura del Sonno, ha promosso una giornata di consapevolezza sulla prevenzione di questi disturbi. Ma sentiamo. In occasione della decima edizione del World Sleep Day, evento mondiale sulla salute del sonno, l'IRCS Neuromed ha promosso una giornata di conoscenza e di screening gratuiti. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulle malattie del sonno e sulle ripercussioni negative del cattivo riposo, agendo su importanti capitoli della nostra vita legati al sonno, la medicina, l'educazione, gli aspetti sociali e la guida. Ma quanto è importante che questi concetti siano ben condivisi dalla popolazione? Allora, è importantissimo che la popolazione sappia, insomma, che le patologie del sonno sono causa di pessima qualità della vita, se non vengono trattate. È importante, infatti, rivolgersi quando la qualità del sonno non è più quella di una volta, da un medico specialista e, insomma, valutare in fondo il problema. L'iniziativa rientra negli eventi che Neuromed ha organizzato in occasione della settimana mondiale del cervello, proprio per far capire che anche il sonno, spesso trascurato, può influire in modo importante sulle funzioni del nostro sistema nervoso. Molti disturbi del sonno, ci dicono gli esperti, sono prevenibili o curabili, ma meno di un terzo delle persone, chiede aiuto ai professionisti per quella che costituisce una vera e propria epidemia globale, che minaccia la salute e la qualità della vita del 45% della popolazione. Non importa, quindi, se siamo uomini o donne, genitori, figli o nonni, se siamo da soli o in compagnia, ricchi o poveri. Di fronte al sonno siamo tutti uguali, tutti ne abbiamo bisogno e tutti possiamo avere problemi. Qui ci riallacciamo alla giornata mondiale del sonno, che è incentrata ogni anno a un tema, quest'anno il tema è quello del rispetto del ritmo circadiano, del nostro orologio biologico. Se questo orologio non viene rispettato, in qualche modo si rompe un anello e questo anello rotto si traduce in una difficoltà a riuscire a svolgere le attività quotidiane, soprattutto una percezione di un sonno che non è ristoratore, e quindi la mattina ci si sveglia già stanchi, cosa che non dovrebbe essere, la mattina ci dovrebbero svegliare riposati. Tutto questo, se non si rispetta nei nostri ritmi circadiani, se non si rispetta se stessi sufficientemente da poterci concedere una qualità e una quantità di sonno necessari, porta a conseguenze che nel lungo termine possono essere gravi. E quindi a quel punto rivolgersi ad un centro che si occupa di medicina del sonno, o comunque primariamente alla medicina di base per poi essere indirizzati, sicuramente diventa fondamentale.